Nessuna dimissioni da parte del Ministro degli Interni e basta con le strumentalizzazioni politiche. Rispondiamo anche all'appello del Presidente della Repubblica, un piano Mattei per l'Africa, un nuovo decreto flussi che regolamenti l'ingresso di mano d'opera qualificata e specializzata nel nostro Paese e un suggerimento all'opposizione e a tutti i parlamentari. Il dibattito politico si fa in Parlamento, non si fanno denunce alla Procura della Repubblica per aprire indagini. Grazie.